Amici, buongiorno. È un piacere avervi qui anche oggi, nella cucina di Tidono Questa Valle. La ricetta di oggi è una ricetta sentimentale. E voi vi chiederete, perché sentimentale? Perché andiamo a toccare i ricordi di qualcuno di voi quando era bambino. Oggi andiamo a fare i buslanei. Certo, maggiormente noti come buslanei, ma se vi dicessi bocciolani, che cosa vi verrebbe in mente? Beh, penso alla maggior parte di voi, niente. E forse a nessuno di voi, perché venivano chiamati in questo modo nel 1764, quando venne scritto un documento dalla Nona di Piacenza, ed in questo documento venne scritto che i bocciolani erano di fattura esclusiva del territorio di Pianello Valtidone. E ancora oggi vengono fatti nel nostro territorio. Qualcuno dice che i migliori siano quelli di Trevozzo, fatti dalle mani sapienti di Massimo Colla. Quindi venite a Trevozzo, al bar La Delizia, e assaggiatevi. Magari insieme a un frizzantino, oppure insieme ad un cappuccino. È la mia colazione fissa ogni mattina. Ma io direi di cominciare, non perdiamoci in chiacchiere. Oggi andiamo a vedere la ricetta riportata negli annali valtidonesi. Quindi iniziamo con la farina. Per questa ricetta ho scelto una farina locale, del mulino gattoni di Trevozzo. Insieme ai nostri 250 grammi di farina, abbiamo qui un po' di burro, esattamente 120 grammi. Una piccola, piccolissima quantità, l'andrò a mettere in un pentolino, dove la farò sciogliere, insieme all'ingrediente segreto, che non tutti hanno voluto rivelarmi. Ma alla fine l'ho scoperto. L'ingrediente segreto è la scorza di limone. Un pochino di scorza di limone. Darà un sapore delicato fantastico. Quindi a questo punto andiamo ad aggiungere la scorza di limone all'interno del burro, per poter amplificare al massimo l'effetto aromatico della scorza. Signore, io lo so che siete gelosissime dei vostri segreti in cucina, ma come diceva Paolo Coelho, la condivisione non impoverisce nessuno, anzi, raddoppia la ricchezza. Perché io non ci perdo niente e tu ti arricchisci di qualcosa che prima non avevi. Giusto? A questo punto possiamo aggiungere il burro nella farina, lo zest di limone con il burro fuso e 100 grammi di zucchero per impastare il latte. In questo caso il latte dell'azienda agricola Manfredi. Sempre valtidone. Aggiungiamo il latte poco alla volta. Dobbiamo ad occhio renderci conto che la consistenza dell'impasto è quella corretta. Impastando, impastando, impastando aggiungiamo un pizzico di sale. L'impasto dei bocciolani è pronto. La storia ci dice che questi dolci, questi biscotti venivano venduti soprattutto nei giorni di mercato. In piazza a Piacenza, ad esempio, erano numerosi i banchetti che vendevano bocciolani. Ma anche a Pianello mi raccontano che all'epoca era presente un signore con dei baffetti bianchi esattamente nella piazza di Pianello e vendeva bocciolani. Prima di iniziare a formare gli anellini dovremo andare ad accendere il fuoco sotto una pentola d'acqua. Questo perché la ricetta prevede di scottare la ciambellina prima di metterla in forno. Questo passaggio è simile a quello per fare i pisarei e faseux. Bisogna formare i cosiddetti beagle. Ora prendete l'impasto avvolgetelo attorno al dito e chiudetelo. la ciambellina è pronta per essere scottata. E appoggiamola sulla teglia. Guarda che roba! Guarda che ciambellina perfetta! ma a fare questi video sto diventando bravissimo! Pazzo! Quando siamo più o meno a mezza teglia è il momento di iniziare a scaldare il forno. ora che abbiamo finito l'impasto e la teglia è piena di ciambellina la andiamo a infornare ad alta temperatura. è ancora prima del documento scritto dall'annona di Piacenza che è riconosciuta l'origine dei buslanei alla Valtidone perché già nel 1300 i monaci di San Savino ne facevano uso come dono da fare ai canonici e nella storia valtidonese c'è un qualcosa di cui vi parlavo prima che va a far leva sui sentimenti di qualcuno di voi che ancora si ricorda questa tradizione i buslanei o brasadei in alcune zone venivano regalati dai se non ricordo male gudas poi ditemi i gudas se sbaglio la pronuncia che erano i padrini dei Cresimandi e si presentavano con queste bandoliere piene di buslanei che venivano messe a tracolla del Cresimando secondo le fonti storiche le foto ancora disponibili questo doveva essere l'aspetto di una collana di buslanei data dal gudas al Cresimando bella no? bellissimo stavo pensando di assaggiarlo un buslanei però non lo so il fatto di assaggiarlo nel latte non mi convince molto e quindi stavo pensando che come fece qualcuno in passato potrei convertirlo in qualcosa che mi aggrada di più quindi perché non trasformare il latte in idromele ora non ricordo chi fece una cosa simile meglio 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 con l'idromele di ti dono questa valle ti sta veramente da dio buono